Mi chiamo Abdur Rahman, ho 17 anni, vengo dal Bangladesh. Per noi è una cosa molto importante rappresentare una squadra di una nazione. Avendo questa maglia azzurra mi sento italiano. Italia, semessa, sembrerò. Discibio, sensità, contessa. Dove la gloria, gloria, gloria. Una persona che conosco fuori del liceo deve tornare al suo paese perché non gli è stata concessa la cittadinanza. Il mio zio, non mi considero neanche più un pakistano da quanto tempo trascorso qui in Italia. Il mio zio, non mi considero neanche più un pakistano da quanto tempo trascorso qui in Italia. Il mio zio, non mi considero neanche più un pakistano. Il mio zio, non mi considero neanche più un pakistano.